Dì la verità, quante volte ti è capitato sul tuo PC di dover ripetere per un numero indefinito di volte delle operazioni magari lunghe e anche noiose? Può capitare quando dobbiamo gestire dei fogli Excel oppure dei database o ancora può capitare nei giochi, ma non solo. Quante volte vorresti automatizzare delle operazioni che magari compi una volta sola ma tutti i giorni? Ebbene, ti sto per presentare un programma che ti consente in maniera assolutamente semplicissima di insegnare al tuo computer a compiere da solo praticamente qualsiasi task. Non ci credi? E allora andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Quest'oggi mi trovo dal mio computer principale perché vorrei farti un piccolo esempio. Tanto mi diverto infatti a realizzare i video proprio come sto facendo in questo momento quanto trovo noiosissime tutte quante le operazioni di manutenzione e gestione del canale. In particolar modo mi riferisco in questo caso all'ottimizzazione dei video che, a parte l'ottimizzazione dal punto di vista SEO, prevede la traduzione dei video in tutte quante le lingue principali. Operazione estremamente noiosa e ripetitiva. Ma proprio grazie al programma che sto per presentarti oggi ho risolto finalmente questo problema. E allora lascia che te ne dia un esempio. Per tradurre un video nelle varie lingue quello che devo fare è andare ad aprirlo, pubblicare la traduzione che viene effettuata automaticamente da YouTube e una volta pubblicata, cioè una volta che questa finestra si sarà chiusa, devo andare su tutte quante le varie lingue, in questo caso ad esempio il tedesco, tradurlo automaticamente in tedesco e pubblicare la relativa traduzione. Questa cosa, naturalmente, come puoi vedere, devo ripeterla per tutte quante le altre lingue presenti nel video e risulta un lavoro estremamente noioso e stucchevole. Per non annoiare anche te, quindi, lascia che completi l'operazione, ma magari accelerando un pochino pochino il video. Ecco fatto, il video è finalmente tradotto, almeno nelle lingue principali, e posso passare al video successivo. Come vedi, i video, purtroppo o per fortuna, sono tantissimi, quindi questa è un'operazione che rischia veramente di mandarti fuori di testa. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Per fortuna, tuttavia, c'è questo programma salvavita che mi evita di diventare matto come il povero Lino Banfi e fa tutto quanto da solo in automatico, mentre io magari mi faccio una tazza di tè. E allora lascia che ti dia una piccola dimostrazione di come funziona, mentre nel frattempo che lavora, magari io accelero il video, ma solo per non tediarti. Ok, scusami. Come vedi, il nostro programmino ha terminato e spero con questa piccola dimostrazione di averti già persuaso. E quindi andiamo insieme a vedere come trasformare il tuo computer in un piccolo robot che fa tutto da solo. E allora andiamo a procurarci questo programma con la promessa di non torturare i nostri PC. Per farlo procederemo come al solito e quindi andiamo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andiamo a digitare gentiluomodigitale. Effettuiamo la nostra ricerca e apriremo il primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Una volta che si sarà aperta la pagina ci porteremo qui in alto sulla sezione Downloads e scendendo un pochino più in basso nella pagina andremo a cercare questo software, quello che si chiama Pullover, come il maglione ma con una sola L. Clicchiamo sul pulsante File Download e mentre il programma viene scaricato ti ricordo che potrai utilizzare anche la lente di ricerca digitando semplicemente Pullover per andare a scaricare questo programma qualora non fosse presente nella pagina principale. Bene, il download è terminato quindi andiamo a fare doppio clic sul file che è stato scaricato per aprire la cartella compressa che contiene l'installer. Possiamo chiudere la finestra del browser retrostante e partire con l'installazione. Per farlo facciamo doppio clic sul file macro creator setup, accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo cliccando sul pulsante Sì, scegliamo la lingua che vogliamo, come vedi italiano è quella di default e clicchiamo sul pulsante OK. Clicchiamo su Avanti, accettiamo i termini del contratto di licenza e clicchiamo ancora su Avanti, clicchiamo ancora su Avanti senza cambiare il percorso di installazione e allo stesso modo lasciamo intatto anche il testo nella finestra successiva. Clicchiamo su Avanti, lasciamo tutti quanti i segni di spunta come si trovano e clicchiamo ancora su Avanti. A questo punto mi raccomando clicchiamo su Decline per evitare che questo software molesto venga installato nei nostri computer e finalmente clicchiamo su Installa per procedere con l'installazione del nostro programma che dura come vedi pochi secondi. Clicchiamo su Fine per andare ad avviarlo e vediamo come funziona questo prodigioso software. La prima volta che si aprirà dovrai scegliere il più adatto in questa finestra, quindi cliccherai su Bene. Vedrai che ti si aprirà questa finestrella con dei suggerimenti che se non vorrai più vedere ti basterà deselezionare questa casella e chiuderla. Ti ricordo che a tuo piacere se lo riterrai potrai fare una donazione ai creatori di questo software. Chiudiamo quindi la nostra finestra e andiamo a vedere come funziona questo programma. La prima precisazione che ti faccio è che ci sono due modi di utilizzarlo. Uno estremamente semplice ed uno parecchio complesso ma che ti consente di fare praticamente qualsiasi automazione sul tuo pc. Naturalmente oggi per questioni di brevità del video vedremo la maniera semplice ma avrai sicuramente modo di approfondire l'uso di tutti questi altri pulsanti che a prima vista potrebbero sembrare spaventosi perché ci sono un sacco di guide online. Il concetto di base è che possiamo utilizzare questo pulsante rosso che vedi qui in alto per andare a registrare una qualsiasi operazione che facciamo sul nostro computer. Successivamente con il tasto play questo triangolo azzurro potremo andare a ripeterla. Facciamo quindi subito una bella prova. Supponiamo di voler creare un nuovo documento di testo che chiameremo test e di volerlo salvare sul nostro desktop. Andiamo quindi qui in alto clicchiamo sul pulsante rosso per avviare la registrazione e ci viene ricordato che con F9 potremo sia avviare che terminare la registrazione. Clicchiamo quindi su bene, clicchiamo su F9 e iniziamo a fare le normali operazioni che faremo. Andiamo quindi in basso sulla lente, facciamo clic, scriviamo notepad, clicchiamo su invio, si apre il nostro notepad, all'interno del notepad scriviamo prova, clicchiamo sul pulsante file, salviamo con nome e lo chiamiamo test. Ci troviamo già sul desktop quindi dobbiamo solo cliccare su salva e quindi chiudere il file. Adesso terminiamo la nostra registrazione e andiamo a vedere che cosa succede. Ma prima naturalmente cancelliamo il nostro file test. Clicchiamo sul pulsante play per far partire la riproduzione di questa macro e vediamo che cosa succede. ecco fatto. Se vorrai riutilizzare in futuro una macro che hai creato tuttavia dovrai prima andare a salvarla. Per farlo dovrai semplicemente cliccare su questo pulsante qui, il salva con nome e andare a posizionare la tua macro dove vorrai. Come vedi qui c'è la mia macro che si chiama sottotitoli youtube e questa l'andrò a chiamare test. Salviamo la macro e proviamo a chiudere il programma. Una volta chiuso andiamo a riaprirlo, chiudiamo la finestra che si apre e andiamo ad aprire la nostra macro facendo clic su file in alto a sinistra e cliccando successivamente sul pulsante che si chiama aperto traduzione impropria. Riapriamo la nostra macro evidenziandola e successivamente cliccando sul pulsante apri e per andare ad eseguirla ci basterà fare nuovamente clic sul pulsante play. Tutto qui. Naturalmente questa che ti ho dato è un'indicazione molto semplice di utilizzo di questo programma che come ti dicevo in apertura ha tantissime altre funzionalità che possono essere esplorate con calma dopo essersi impadroniti della tecnica di base e andando successivamente a modificare manualmente le macro una volta che sono state registrate. Ci siamo. Non ho altro da dire su questa faccella. Ma io invece qualcos'altro da dire ce l'ho e per la precisione si tratta di un ringraziamento rapidissimo ovvero quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo come di consueto non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima